Ben trovati cari amici di Globus Television, Antonella Guglielmino. Ecco le nostre notizie. Una giornata di seminari e laboratori dedicata al consumo responsabile del vino e all'educazione enogastronomica. Istituto Lorenzo De Medici in collaborazione con Unicesv, Centro Universitario Ricerca per lo Sviluppo Competitivo del Settore Vitivinicolo dell'Università degli Studi di Firenze. Inas, Consorzio Interuniversitario Agribusiness e Sostenibilità e Consorzio Vino Chianti Classico ha organizzato 5 Sensi per Degustare. Un'iniziativa che nasce con l'intento di esplorare contenuti culturali collegati alla produzione e al consumo di vino che si è svolta presso la Scuola di Cucina Lorenzo De Medici nella chiesa di San Jacopo in Campo Gorbollini. Il vino rappresenta infatti una delle principali testimonianze di tradizioni produttive e di consumo alimentare che contraddistinguono lo stile di vita toscano ed è strumento fondamentale per definire la storia e la cultura del territorio ma anche per promuovere soprattutto fra i più giovani un consumo responsabile dell'alcol. Un nutrito gruppo di tangheri ha ravvivato i portici di Piazza Europa a Catania per un tango illegale, definizione di un incontro libero e gratuito tra appassionati di tango come uscito dal nulla. Un nutrito gruppo di tangheri ha ravvivato i portici di Piazza Europa a Catania per un tango appunto illegale, definizione di un incontro libero e gratuito tra appassionati di tango che si ritrovano per ballare tra le vie e della città, i luoghi pubblici. Una milonga fuori dal comune in cui la scelta del luogo, dell'orario, della musica e del suo svolgimento è sempre estemporanea e lasciata al caso, soprattutto lasciata alla scelta degli organizzatori. Per un paio d'ore a Catania ha riproposto le atmosfere che si respirano a cabinito nel quartiere di La Boca a Buenos Aires, suscitando un grande curiosità nei passanti che con un sorriso e una foto hanno potuto apprezzare un accenno della magia del mondo tanghero. Iniziato per la stagione 2016-2017, meraviglioso il programma televisivo condotto da Salvo La Rosa. Tanti gli ospiti d'eccezione, una scenografia imponente e un regista di Rai 1. Queste le novità per la nuova edizione che è iniziata a martedì 29 novembre. La prima è stata in diretta e si andrà in onda due volte a settimana, il martedì e il mercoledì alle ore 21. E poi ci saranno anche una puntata del Meglio Dì e il giovedì sera una puntata speciale in programma la domenica sera con le pillole di Meraviglioso. Ecco il nostro contributo. Straordinario, meraviglioso, siamo all'interno di questa struttura che è cambiata grazie a questa nuova avventura meravigliosa di Salvo La Rosa con uno staff tecnico veramente straordinario. Parte così questa avventura, Salvo? Diciamo che siamo pronti perché abbiamo creato uno staff tecnico, artistico, ma soprattutto un gruppo di persone, quindi una famiglia, donne e uomini meravigliosi che anche quest'anno ci permetteranno di andare in onda con un livello qualitativo certamente molto alto. Dopo alcuni anni di assenza dalle scene Marco Longo ritorna e lo fa ancora una volta alla Sala Magma di Catania portando al debutto venerdì 2 dicembre ore 21 lo spettacolo di prose in due atti, Cena in famiglia, di cui è coautore insieme a Emanuela Gutkowski anche aiuto regista. Per la Sala di Viadua numero 3 è il secondo spettacolo della stagione teatrale 2016-2017. All'inizio scoppiettante si somma un successo di pubblico annunciato, si è già infatti al quasi tutto esaurito per l'intero numero delle repliche previste. L'artista catanese è un francesista e come tale non può che confermare anche in teatro la propria vocazione per temi e ambientazioni parigine. Qui è presente anche qualche vago riferimento a Jean Anouy e soprattutto l'eco di carta drammaturgia pirandelliana con esplicito ricorso al teatro nel teatro e al gioco degli specchi tra realtà ed apparenza, verità e menzogna. A pochi giorni dalla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ACIL Catania promuove un momento di importante riflessione sul tema attraverso il convegno La violenza non vuole silenzio. Ad intervenire venerdì 2 dicembre alle ore 17 nel Salone Loyola della parrocchia Crocifisso dei Miracoli, numerosi esponenti accademici, politici e della società civile catanese che discuteranno con le donne e gli uomini del territorio di violenza sull'importanza di reagire ad essa. Nel corso dell'incontro che ha ottenuto il patrocinio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia verrà presentato anche il corso di autodifesa femminile tenuto da Cranvaga Combat Team e promosso dal coordinamento Donne Acli di Catania. Da Globus Television è tutto.